Come andrà quest'anno la raccolta di mais nel nostro paese? Secondo Confagricoltura, male per quanto concerne la quantità, bene sul versante della qualità. Le quattro regioni più importanti della produzione di mais, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, faranno registrare infatti un calo della produzione che in alcuni casi, come l'Emilia, si aggirerà sul 30%. La causa? La stagione non certo favorevole a questa piantagione e la continua riduzione degli ettari di terreno dedicati al mais. In 15 anni si è pressoché dimezzata. Oggi siamo a poco meno di 600.000 ettari a mais coltivati da poco più di 100.000 aziende agricole di varie dimensioni. Il risultato? Un continuo aumento delle importazioni di mais da altri paesi, anche OGM, per far fronte alle necessità locali. In questo senso, a risentirne negativamente, sono soprattutto le produzioni alimentari a denominazione d'origine protetta. Senza mais italiano sarà difficile assicurarle. Il dato positivo di quest'anno è che la produzione è di qualità eccellente, grazie per ora alla mancanza di patologie legate al mais e al rafforzamento della ricerca e dell'innovazione in questo settore. È la strada che Confagricoltura indica da tempo a tutti gli operatori maidicoli. Grazie.